ciao amici di youtube oggi siamo in live su twitch anche se purtroppo la chat non si vede oggi pulleremo 44.000 gemme sul nuovo biscottino cocoa cookie che sarà un biscotto difensivo lo scopriremo meglio più avanti abbiamo anche un po di pull sui costumi insomma c'è un sacco di cose da vedere spero vi divertirete ci vediamo alla fine del video per vedere un pochino che cosa abbiamo trovato quindi divertiamoci ciao andiamo sembrerebbe una comune a occhio comune questo è proprio lo scam scam va bene iniziamo con lo scam forza dai uno scam carino ce lo meritiamo magari uno di quelli nuovi anche perché i comuni li ho praticamente tutti quindi anche per dire qualcosa di nuovo di clover io adoro clover oh mio dio adoro clover quelli sono contentissima di questa comune va bene va bene va bene questa comune mi piace e lì che stai guardando è uscito clover ovviamente non poteva che essere per sapere che quando io e mia sorella pulliamo insieme io a mia sorella gli auguro tutti clover perché a me clover piace però lei quando vuole io gli sto lì a fare tutte le pull clover clover tutte le volte che pullo io sul su li faccio clover clover ma adesso abbiamo iniziato proprio ora a pullare è preciso alla spam di biscottini per la multi dai almeno un epico ti prego no mi sa che ci sono solo rari mi sa che ci sono solo rari no c'è un epico forse c'è un epico c'è un epico ok abbiamo un biscotto epico oddio se fosse coco sarebbe bellissimo ok è andata bene un comune tre rari è un epico io ci metto la firma su una multi del genere assolutamente dai vediamo cosa c'è dentro comune eccoci appunto abbiamo appena trovato va bene raro ok nuova di mushroom va bene poi questa ce l'avevo già ma questi frammenti mi servono per prenderla la skin di latte poi è perfetto e qui è tutto dai 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 no non ci credo è quella di oliverry non ci credo oh mio dio è quella di oliverry no vabbè non ci sto credendo scuro maoi subito scuro maoi ho trovato quella di oliverry nooo non ho oliverry però ma che cavolo ma che cavolo ma che cavolo uffa bellissima mamma mia allora spammiamo i biscottini perché vogliamo appunto abbiamo questi sette frammenti abbiamo un epico vorrei trovarlo da proprio dirvi se sono sempre quelle tutto regolare tutto regolare andiamo dai prima prima singola ok raro pg raro carrot che devo portare al 100 quindi bene ci sono un po' di pg raro che sto portando a 100 frammenti quindi molto bene carrot seconda dai dai un epico in sette un epico in sette un epico in sette niente frammenti frammenti oh tre frammenti di coco siii iniziamo già a trovare i suoi frammentini bene 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 andiamo va bene così poi prossima singola un altro raro un altro pg raro gamble che ho portato al massimo però i punti mi servono per prendere i frammenti di latte quindi molto molto bene molto molto bene andiamo avanti frammenti altri due frammenti di coco oh si che bello che gioia siamo già a cinque non l'abbiamo ancora trovata ok ce ne mancano tre prossima singola dai dai ok altri frammenti un altro frammento di coco se fosse stato da molti sarebbe stato da molti frammenti di coco ne ho trovati sei praticamente di già ok ok frammento raro tre frammenti di carrot molto bene molto bene molto bene ci siamo quasi e poi per ultimo l'ultima singola prima delle tutte le nostre multi epico no frammenti niente epico niente epico però abbiamo trovato un sacco di frammenti epici prima multi dai ok può esserci un raro come un epico raro multi con raro è questa quando c'è la strega con gli occhi così la multi tiene un raro come massimo grado però possono esserci dei frammenti epici o frammenti comunque leggendari o antichi quindi questa prima multi è una multi shaft però un frammento di tiger lili me ne mancano due e finalmente la posso all'alloccare un frammento di licorice ecco il pg raro della multi eccolo qua custard che ho già maxato poi vabbè frammenti comuni ho maxato tutti i comuni eccola qua un frammento di cocoa avocado che ho maxato un altro raro dammi di nuovo carrot princess princess sono indietrissimo con i frammenti di princess ottimo princess sono contentissima ottimo 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 perfetto perfetto è andata bene ragazzi ovviamente non c'era l'epico però è andata bene perché comunque mi sono portata a casa frammenti di pg che mi servono quindi ottimo andiamo adesso con la seconda multi dai epico abbiamo un epico in questa multi quella combinazione personaggi è l'epico dai dai ragazzi dai ragazzi speriamo 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 un epico solo dovrebbe esserci mi sembra da occhio dai potrebbe anche essere un leggendario eh io parlo di epici perché non ci spero però mai dire mai nella vita magari è olly berry così almeno gli do il vestito dai dai dammi cocua ok frammenti comuni frammenti comuni biscotto comune che tanto avrò maxato esatto ninja l'ho maxato poi ok frammenti epici 3 di red vervet ok frammenti comuni un raro che ha laggato devil che ho già maxato frammenti epici 3 di shark sorbet shark eccoci pg della multi epico sì sì ragazzi e lei abbiamo trovata abbiamo battuto a cup of cocoa che carina terza multi forza altro epico altro epico oh mio dio altro epico altro epico dai dai aiuto aiuto altro epico altro epico vediamo un po' ok 3 frammenti di lilac un biscotto comune che abbiamo già asceso eccoci ecco l'epico sì sì un'altra eh sì la possiamo già scendere che bello sono già felice sono già felicissima proprio veramente ok c'è anche un raro dammi carrot no sempre devil che abbiamo già maxato quindi non ci serve frammenti di mint ok frammenti di cocoa oh mio dio sì altri frammenti frammenti di perfect cookie ok che devo portarci andiamo multi numero 4 mi incappuccio per la multi numero 4 ok potrebbe anche essere dammi un altro epico no raro qui c'è raro va bene vabbè due epici di fila non mi posso lamentare va bene così ok questa ce l'ho già speriamo che il raro che c'è è uno di quelli che devo ancora scendere almeno ci guadagno ecco tre frammenti di coco ok carrot no avocado no avocado molti numero 5 molti numero 5 molti numero 5 dammi un'altra cocoa una no questa è la multi con il raro quando c'è il maghetto di là è sempre raro infatti molti raro niente però mi dai frammenti no tre di mango tre frammenti di mango ok 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 è un comune due di pancake che mi serve dammi pancake sì l'ho chiamato mi ha dato pancake davvero ci sto credendo perché succede oggi ok 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 un altro raro adesso se mi dai princess sono felicissima ok no devil va bene tutto ma insomma ancora veggente non sono c'è lui da solo può vuol dire tutto e niente no raro sto detto non funziona sto detto non funziona ok un frammento di coco va benissimo ok un altro frammento di coco che stiamo maxando con i frammenti abbiamo un sacco di frammenti due frammenti di coco grazie mille raro night l'ho già finito poi abbiamo ok muskull ninja ginger brave ancora ninja ok questa era un po' più shaft delle altre questa la trovi nella multi c'è l'epico c'è l'epico c'è l'epico dammi coke dai dai doppio epico ragazzi molti con doppio epico double epico in questa doppio zitti zitti doppio epico ecco epico numero uno epico numero uno siiii amore amore che carina che sei ok ok raro avocado ci abbiamo già maxato avocado non ci serve tre frammenti di liquirizia perché perché si un frammento di pancake altro epico cotton cotton che comunque è relativamente nuova quindi va benissimo vabbè ancora mi fa morire cotton yes la posso portare su oddio anche cotton posso alzare adesso al 50 quindi faccio tre stelle dai dai anche con cotton bene alchemist mi serve ok alchemist intera no sempre avocado io sono abbonato avocado eh ok frammenti di avocado ok si epico epico eccolo ragazzi c'è già l'epico aiuto ok epico singolo epico di nuovo dai dai andiamo avanti vediamo un po' che cos'è clover il mio amico clover alchemist che mi serve frammenti di malasus ok adventurer cherry ecco no questo no è il biscotto raro mi stava triggerando blackberry blackberry l'ho maxata comuni maxati eccoci ok non ci sto credendo ragazzi non ci sto credendo nemmeno io non capisco io balletto e basta ok due di twizzly così eh andiamo ragazzi ci mancano sette molti andiamo con la prossima forza ok secondo me questo è raro raro ok ci stava due epici di fila che cos'è ok clover alchemist dammi uno di quelli che mi mancano Antonio l'ognomo certo non è un grande uomo ok oh qua non ci sono quasi punti frammenti epici eh questo è un multishaft si prepara un leggendario nella prossima dai mancano sei molti alla fine andiamo ok può essere tutto può essere niente raro ok vediamo se c'è qualche frammento che ci interessa questi mi interessano questi no questo sì aspetta devo darmene tre però ok questi non mi interessano raro dai uno di quelli che mi serve carrot sì portate al 100 carrot bene non mi servi più adesso il tuo ruolo è finito frammenti di cocua un frammento di cocua perché non ci sprechiamo un frammento di milk perché non ci sprechiamo uno perché se no è troppo veramente troppo ok bene ok carrot maxata dai ok può essere come non può essere non è raro ed ecco subito il raro mi serve pancake o alchemist o princess ecco alchemist rover no è il primo che ho maxato gamble ancora un frammentino di cocua non ci fa male ok ce l'era un altro raro no questo ce l'ho già ok non me ne aspettavo non me ne aspettavo i tre frammenti di leggendario sinceramente e si è sempre nel mio cuore bene esce il raro mina sei contenta vedi te l'ho dedicata ed esce il raro quindi puoi stare tranquilla adesso ciao ton magico puoi stare tranquilla mina ok però ecco altri due frammenti leggendari potrebbe darmeli in questa multi ma il raro c'è eccolo dai ti prego no basta gamble basta non ne posso più carrot ormai l'abbiamo finita alchemist no oh ecco alchemist dai basta avvocato basta avvocato abbonato io intanto vi spacchetto copo adesso no raro di nuovo visto 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 mi avete portato le le bad vibes da good a bad è stato un attimo dopo delle molti pazzesche niente niente è andato talmente bene finora che non può ma è giusto ragazzi effettivamente ho sculato tanto sia a livello di di epici che di frammenti che mi servivano di altri pg anche a tre stelle insomma è rari quindi sono contenta cherry ce l'ho già poi posso portare al massimo latte ok un altro raro cherry va bene ok ok piccola click ok un frammento di espresso che mi serve tantissimo espresso un frammento di pancake che uso cioè non che uso che sto scendendo comunque dai coppa vieni a me ti prego non è vero ok può essere come può non essere sì dai ti prego coppa ti prego ti prego è la penultima a molti ti prego dimmi che sei te così ti porto a tre stelle dai dai due frammenti di coqua due frammenti di coqua tre frammenti di raspberry un comune perché un comune nel mezzo ci stava frammenti comuni eccoci no cosa c'entra questo lo posso tirare su ma non volevo vampire bugie uffi uffi mannaggia ok raghi sono stata blessata vediamo no c'è il raro quindi questo bless non ha funzionato questo bless non ci siamo non ci siamo con il bless mannaggia va bene dai ragazzi è andata bene è andata benissimo poi adesso maxo maxo latte che mi vale più di coqua e mi vale più di oliberry perché un personaggio epico maxato vale più di un personaggio antico ac0 avocado non poteva che mancare umurrabbit che uso quindi ok ok penso si faccia in cooldown qua tra l'altro a occhio ok qui abbiamo finito avremo una singola ma questa me la tengo mi piacciono le multi lo sapete beh lo faccio si lo faccio è questo è questo il momento di hype della giornata quindi non temo niente e nessuno in questo momento lo faccio ragazzi lo faccio mamma mia mamma mia mamma mia bella 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 bellissima ciao